Impressioni a caldo su Hopeless di Chang Hoon Kim, film coreano che parla di violenza giovanile, bande, gangster in una cittadina di periferia coreana, dove però, secondo me, la rappresentazione di questa violenza, a parte graficamente, ovvero è molto esplicito come film, non trova alcun tipo di sbocco in qualche significato importante, oppure qualche riflessione, ma è solo una rappresentazione cinica, incredibilmente cattiva, senza però un fine, anche banale però, di una criminalità molto over the top e fuori dagli schemi, che non vuole portare a nulla con padri violenti, cioè è tutto incredibile, pare un fantozzi però criminale, non sono mai riuscito a prenderlo sul serio per un secondo.